Ok, Krista Zomers, puoi dire qualcosa su di te? Puoi dirci qualcosa su di te? Sono un giocatore per iniziare e vengo da Latvia, Italia e Lettonia rappresento la squadra nazionale del mio paese e ora sono in Parma e sono molto felice Sono Krista Zomers, sono un portiere tanto per iniziare Vengo dalla Lettonia, sono il portiere della nazionale Under-19 e sono veramente contento di essere qui Come trovi il coach, Hermes Fulgoni? Entendete cosa vuoi dire? Sì, ho capito, ho cercato di imparare l'italiano, ma posso capire più di quello che posso parlare E' un coach davvero buon, mi piace i suoi manuveri di allenamento e molto difficili Gli ho chiesto come si trova con Hermes Fulgoni e gli ho chiesto anche se capisse quello che Hermes gli dice Gli ho detto che sì, che sta iniziando a capire, sta iniziando a imparare l'italiano Gli piace molto il suo modo di allenare e quindi lavora molto duro Sì E' vero che nei primi giorni per te era difficile la temperatura, la temperatura calda? Sì, era stato Vieni da un team in Denmark Sì, era molto caldo in Denmark, come, venire da winter a summer è molto difficile E i primi giorni sono difficili da respirare sul pittà, ovviamente è una prima season, è normale Vieni a un nuovo posto come le montagne e il clima Sì Quindi ora mi sono acostato e sono pronto E gli ho chiesto semplicemente se venendo dalla Danimarca, visto che lui viene da una squadra danese I primi giorni abbia subito il caldo, lui ha confermato, visto che veniva dall'inverno all'estate I primi giorni ha subito questa cosa, poi comunque si è acclimatato Cosa vuoi essere personali in questa season? Cosa vuoi trovare? Sei il primo giocatore? E ora? No Beh, ovviamente, sarà un consiglio di essere il numero uno Ma ho bisogno di lavorare, ho bisogno di provare in allenamento e in gioco Se inizio la prima season, non importa se sono il numero uno o il numero due Io solo voglio aiutare il team Se il coach decide, rispettere la sua decisione E gli ho chiesto che cosa, che obiettivi personali ha per questa stagione Se è il primo partiere, lui ho detto che ancora non lo sa Che proverà comunque a fare il possibile per esserlo Ma poi deciderà il mister e si adatterà alla decisione Cosa è Parma per te? Parma è un club veramente grande con una storia storica E con dei buoni fan che vedo adesso E con dei buoni fan E gli ho chiesto cos'è Parma per lui Ha detto che è un club storico molto conosciuto Ed ha degli ottimi tifosi E con dei fan, cosa pensate per la prima volta in Tardini Quando entriamo nel campo e vedi tutti i fan Mi ero sorpreso perché è solo la prima season Molte persone vengono a guardare E hanno davvero avuto il team Nel momento in cui abbiamo bisogno Abbiamo scoperto un gol Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto La prima volta del Tardini Dei tifosi Al momento dell'ingresso in campo Ho detto che si è molto emozionato E poi ho concluso Sandro E che l'amichevole era Nonostante fosse solo amichevole C'erano molti tifosi E poi hanno segnato un gol E poi un altro Quindi è stato bellissimo Vai Sandro E' possibile che in season Scoperte con Litian Cosa vuoi dire? Con Andar Con il team nazionale? Sì Beh, ho dovuto vedere Ho dovuto vedere Perché le qualificazioni in novembre Ma fino a poi non lo so Il club decide E parlare con il team nazionale Sì Ha detto che è possibile In novembre Ci sono le prequalificazioni E quindi vedremo se lo convocco In sintesi Per me è buono Sorry for me Bad English Ok, no problem Hai qualcosa in italiano Per finire l'interview? Forte Parma Grazie